Chiediamo al Governo l'apertura rapida di un confronto per definire le scelte della legge di stabilità a partire dal superamento di Tasi e Imu e le equivalenti compensazioni finanziarie su cui potranno contare i comuni. La richiesta arriva dal Presidente dell'Anci Fassino al termine di una riunione con i Vice Presidenti dell'Associazione e i Sindaci delle Grandi Città e che ha visto presente a Roma anche il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti. La preoccupazione, ha detto il Sindaco, è che la solita manfrina del taglio del Limo e della Tasi si ripercuota sui cittadini attraverso nuovi tagli ai trasferimenti ai comuni. Non si chiede tanto, ha aggiunto Pizzarotti, i soldi dei parmigiani devono rimanere a Parma e non finire nel porto delle nebbie di Roma. Nel confronto col Governo, ha aggiunto Fassino, intendiamo anche discutere il superamento del patto di stabilità, consentendo ai comuni di utilizzare per investimenti risorse accantonate e fino ad oggi bloccate e inutilizzate, ma anche una verifica sul nuovo sistema di contabilità che richiede una correzione della disciplina relativa al pareggio di bilancio. Infine, attendiamo che nel confronto col Governo si acquisiscano certezze sulla riforma del catastro, su quello della riscossione fiscale e sul rimborso delle spese sostenute dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari.